Ciao ragazzi, da Passaclass Florence, oggi vi mostrerò come fare tagliorini con gorgonzola e truffle oil. Facciamo! Semolina Ok ragazzi, qui abbiamo un po' di acqua, abbiamo la batteria, stiamo cercando un po' di caramellizzazione, mettiamo un po' di pepera dentro, apriamo un po' un po' di pasta e mettiamo la pasta dentro, ok, come così. Spendiamo la pasta all'acqua, ok, mettiamo in un po' di acqua, questa pasta è cottura molto rapidamente, abbiamo aggiunto, in un po' di acqua, un po' di acqua, ok. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Se avete visto il video e il video, per favore, suscrivetevi e like il video, ok? Ci vediamo qui, in Passaclass Florence, grazie! Grazie per la visione!